Buongiorno, sono Edoardo Cantù, sono un ingegnere meccanico e ho da poco conseguito il dottorato in Technology for Health presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione all'Università di Brescia e faccio parte del gruppo di ricerca del professor Sardini e in generale ci occupiamo di misure elettriche ed elettroniche con lo sviluppo di sensori. Quello che è stato il mio core per quanto riguarda la ricerca di dottorato è stata la realizzazione di sensori ed elettronica stampata, customizzata. Quello che si è potuto vedere è che nel tempo c'è una crescente richiesta da parte di diversi settori industriali nella realizzazione di sensori ed elettronica direttamente integrata su oggetti esistenti, e quindi tramite queste tecnologie ed elettronica stampata siamo andati a realizzare questi nuovi elementi direttamente sui sensori. Quindi parliamo di smart object che ci consentono quindi di misurare nuove grandezze e aggiungere del nuovo valore ad oggetti che hanno già specifiche applicazioni. Abbiamo considerato diversi ambiti applicativi come biotech piuttosto che dispositivi indossabili e settore industriale e in questo modo è stato possibile dimostrare l'applicabilità di queste nuove metodologie in diversi ambiti e quindi riuscire a renderli industrializzabili. Un esempio di applicazione è stata la realizzazione di un sensore cartaceo per il settore del packaging alimentare che quindi è in grado di fornirci una serie di informazioni per quello che è lo stato di salute del cibo confezionato. Grazie per la visione!